Enrica Pagella, attuale direttore di Palazzo Madama e Borgo Medievale, andrà alla guida del Polo Reale di Torino. La sua nomina è l'esito della selezione lanciata nel gennaio scorso dal Ministero per i Bene e le Attività Culturali, relativa a 20 grandi musei statali. Ben 7 tra i neonominati sono stranieri perché la selezione era internazionale ed è quindi motivo di particolare prestigio per tutto il Piemonte il fatto che una torinese abbia ottenuto questo risultato. Enrica Pagella è arrivata a Palazzo Madama nel giugno del 1999 e ha lavorato al progetto di ristrutturazione e riallestimento del museo fino alla sua riapertura al pubblico nel dicembre del 2006. Con il passaggio dei musei civici della gestione diretta del comune alla Fondazione Torino Musei nel 2003, ha assunto anche la direzione del Borgo Medievale. Adesso invece dovrà occuparsi del Polo Reale che comprende quattro diversi musei, Palazzo Reale, Galleria Sabauda, Armeria Reale e Museo di Antichità. Il cantiere di Palazzo Madama, ha detto Enrico Pagella, è stata un'esperienza appassionante. Questo rinnovamento è stato possibile anche grazie alla creazione di nuovi assetti gestionali che hanno garantito maggiore efficacia nelle politiche di studio, di conoscenze e di aggiornamento dell'offerta culturale. È un'esperienza che può oggi essere messa a disposizione e al servizio delle istanze che sorreggono la riforma Franceschini che delinea un percorso di autonomia scientifica e organizzativa per 20 grandi musei statali ristabilendo il ruolo e l'importanza del museo nel campo della ricerca e della socializzazione delle conoscenze. Una sfida molto interessante e sono felice di avere l'opportunità di coglierla al Polo Reale di Torino, un patrimonio immenso e straordinariamente articolato, con grandi prospettive di sviluppo sia sotto il profilo della ricerca sia per la piena accessibilità, un'istanza quest'ultima che va perseguita come un dovere civile, prima ancora che come il primo dovere di un direttore di museo. Una scelta che premia professionalità, competenze e dedizione ed è riconoscimento alla qualità del sistema museale e culturale della città di Torino. Così il sindaco di Torino, Piero Fassino, ha commentato la nomina di Elika Pagella alla direzione del Polo Reale. Radicata nella città e forte dell'esperienza maturata nella direzione di Palazzo Madama, dice Fassino, Pagella potrà portare ora a compimento la realizzazione del Polo Reale, facendone uno dei siti di eccellenza del sistema museale architettonico del nostro paese. Molto soddisfatta anche l'assessore regionale della cultura, Antonella Parigi, Sono felicissima, questa nomina è la soluzione che ci auguravamo. È una professionista di grande competenza, al Polo Reale è stato avviato un percorso, ma c'è ancora molto da fare, come dimostrano le problematiche di questi giorni relative all'apertura dei musei. È necessario, conclude l'assessore, uno sforzo per completare il lancio del complesso museale e la nomina del nuovo direttore è proprio l'occasione giusta.